eeeh va bene gamba mi chiesto di disegnare lode e io lo stavo facendo ah fai dei live questo giusto? io se questo è un must del suo canale e allora te lo faccio bene lode scusa come fare sto lode? come faccio a farlo io sto lode? eeeh vaaah Dio santo è finito la gamba che io sia lodata lode ora scrivo la gamba lode a gamba sei appassionato? eeeh lode a gamba eccolo qui gamba guarda che bello lode a gamba lode a gamba ah devo firmarlo aspetta mi ha detto di firmarlo adesso lo firmo guarda ragazzi ora bello a tutti i piccoli tossici bastardi benvenuti in questo gamba vlog del mese di novembre prima di ogni cosa prima di ogni cosa ragazzi vi devo ringraziare perché il mese di novembre probabilmente è stato il miglior mese che io abbia mai avuto su youtube ovvero in termini di numeri in termini di iscrizioni like oggi stesso in cui sto registrando questo video abbiamo fatto record di like per una live 133 like e io vi ringrazio tantissimo abbiamo avuto un botto di abbonamenti un botto di donazioni un botto di like appunto e quindi io devo ringraziarvi perché grazie a voi il canale veramente è cresciuto tantissimo e quindi adesso sto iniziando veramente a credere che questo canale possa arrivare un po' più lontano di quanto mi aspettassi e quindi penso che forse veramente riusciamo ad arrivare almeno i 10.000 iscritti fatto questo ringraziamento generale ragazzi adesso ci tengo a ringraziare chiunque abbia potuto sostenere il canale economicamente in questo mese dico potuto e non voluto come sempre ormai questo è diventato uno slogan potuto perché sono convinto che molti di voi vorrebbero ma non possono io li ringrazio lo stesso però capite bene che devo citare e quindi nominare chi ha potuto anche con una minima donazione un minimo abbonamento sostenere il canale questo mese economicamente quindi se hai anche solo donato un euro in questo video verrai citato quindi ragazzi direi di iniziare dagli abbonamenti ringraziamo il samo il mister fagosio che ci teneva ad essere chiamato mister l'unico attualmente attualmente attivo l'unico attualmente attivo con l'abbonamento squilibrato sei un grande bro sei un pazzo sono squilibrato simogamer e christian forgieri poi ringraziamo gli abbonati di twitch ragazzi checo simulag justlittlecree tifi gattofritz e bellatrix grazie mille ragazzi ora passiamo alle donazioni iniziamo dalle donazioni tramite paypal che sono quelle che vengono meno tassate quindi io vi ringrazio ancora di più e abbiamo mircos gamer con un euro e il facocerone sudato mister facocero con 10 euro grazie mille bro e adesso passiamo ai fatti veramente tosti ragazzi fatti veramente tosti passiamo alle donazioni tramite super chat questo mese voi non avete capito niente voi state fuori di testa avete veramente esagerato ringrazio iniziamo prima da quelle più soft andrea bistrullo 12 euro grazie mille bro shotblack official luigi christian capitan junior 4 euro grazie mille bro kevin 17 euro grazie mille bro dando davidbtv tifi 7 euro master mario 4 euro rida carola 15 euro lalli the rolex mattia ficuciello maria antonietta snitz gabriel ciccio gamer stupendale e yoshi questi erano quelle più soft adesso passiamo ai 3 top donator del mese ragazzi 3 top donator del mese abbiamo in terza posizione flavio pro gamer di cui vi lascerò anche il link in descrizione perché è un ragazzo che mi segue sempre mi segue da anni fa live su youtube ci tengo a fare un po' di pubblicità quindi vi lascio il suo canale in descrizione flavio pro gamer con 30 euro di donazione veramente tanto grazie mille bro al secondo posto abbiamo alessandro arrico con una fottuta 50 euro grazie mille veramente carissimo grazie mille veramente e ragazzi al primo posto io non so che dire abbiamo analisa confortini con 300 euro di donazione uscirà il video della razione delle donazioni di analisa confortini ovvero mattia più che dirti grazie non so cosa fare sei diventato il secondo dio del canale dopo di di che mi dono mille euro ovviamente questo video è dedicato a te carissimo mattia sei stato troppo veramente troppo gentile hai esagerato bro ti prego non lo fare più hai esagerato sono troppi soldi 300 euro sono troppi soldi ti ringrazio ma hai esagerato troppo e questi ragazzi erano i donatori gli abbonati chiunque abbia potuto sostenere economicamente il canale questo mese ed io vi ringrazio ragazzi ragazzi questo video lo vedrete sicuramente la mattina del primo dicembre ma il primo dicembre ovvero domani per quanto mi riguarda perché sto registrando il 30 novembre domani sarà una giornata piena in quanto la mattina uscirà questo video il pomeriggio alle 3 faremo il sorteggio del contest skin da 2000 vbac ovvero un abbonato casuale potrà vincere una skin da 2000 vbac tra l'altro ragazzi come ho già detto stasera perché voi lo vedrete questo video il primo dicembre farò live dell'evento di forte mi raccomando non mancate ci sarà la nuova season e il nuovo pass mi raccomando shoppate con il mio codice supporto creatore gamba di 27 e taggatemi su instagram mentre fate una foto o un video vi condividerò tutte le storie in cui mi avete taggato mentre shoppate con il mio codice supporto creatore il pass battaglia e adesso ragazzi passiamo alla classifica gamba coins e vediamo il nuovo moderatore del mese come potete vedere ragazzi il vincitore della classifica gamba coins è l'ele con ben 2286 coins e mi sa che è un record no lo so grazie mille proprio aver guardato esattamente 76 ore di live in questo mese sei un fottuto pazzo e quindi l'ele rimane moderatore perché era già moderatore poi abbiamo il nuovo moderatore ragazzi ovvero ninja di cigliano con 1848 coins perché è il primo tra i non moderatori e quindi sarà moderatore e abbiamo vizco ragazzi che è il secondo moderatore con meno gamba coins e non perde il posto da moderatore e adesso vi spiego perché poi abbiamo giorgio con 1125 driftina con 606 la seconda tra i non moderatori grazie mille e ringrazio tutti quelli della prima pagina ragazzi mister facocero il moderatore roberto c nicolò night no night bot non c'entra un cazzo di pignone mister facocero berto c nicolò ad alterion cristiana lee alessio di maria stefania zopetti di samuel frenzy one di simone gabriel neanche gamba dice entra un cazzo tommaso soresina dommi il gatto fritz lilli quella piccola se siete curiosi ragazzi io vi faccio vedere le altre pagine se siete curiosi di vedere quanti gamba coins avete accumulato mettete in pausa il video e vi cercate un attimo va bene scorro un po di pagine direi che 7 8 9 e 10 pagine va bene così stavo dicendo ragazzi vizco non perderà il posto da moderatore perché ho deciso di rendere la classifica gamba coins il ruolo di moderatore più interessante ovvero tra vizco lele e ninja di cigliano chi nel mese di dicembre farà meno gamba coins perderà il posto di moderatore e chi farà tra i non-moderatori farà più gamba coins diventerà moderatore quindi ragazzi la sfida adesso non sarà più tra due moderatori ma tra tre moderatori detto questo ragazzi la classifica gamba coins viene azzerata quindi già dalla live del sorteggio del contest skin avrete tutti 0 gamba coins e già da lì potrete accumulare gamba coins e cercare di diventare nuovi moderatori del canale di gamba detto questo ragazzi io vi saluto noi ci vediamo in una prossima live bella tossici